Mara è un piccolo centro del Meilogu, posto su un ampio gradino trachitico a pochi chilometri da Padria e Pozzo Maggiore. Il paesaggio, prettamente collinare, è solcato da valli strette, in fondo alle quali scorrono piccoli torrenti che durante l'estate inaridiscono notevolmente. La vegetazione, un tempo ricca e abbondante, è costituita dalla macchia mediterranea e da qualche rado boschetto di lecci. La parte settentrionale del territorio è dominata da due alture, il blocco, scosceso di affioremento vulcanico di Monte Traesu, e la cima isolata, incoronata dai ruderi del castello di Bono Ighino. Fra le due alture si trova un bacino su un rilievo più dolce, guardato dalla bella chiesa campestre di Nostra Signora di Bono Ighino. Tanto le grotte, molte delle quali di alto interesse speleologico, quanto la zona in generale, si prestano ad itinerari di tipo sportivo e ad attività di trekking. Al fondo valle sgorga una sorgente d'acqua freschissima e abbondante. Nel 2007 è stato inaugurato a Mara il centro di documentazione della civiltà contadina alla presenza della presidente del parco letterario Grazia De Ledda. Il centro nasce nel quadro di un progetto culturale che si lega al nome della più grande scrittrice della Sardegna, premio Nobel per la letteratura. Grazia De Ledda.